Buonasera, buonasera, buongiorno a tutti, io volevo sgridare perché ieri sera non avete fatto abbastanza gli incrucini, cioè stanno notti i bambini, non ha dormito neanche 5 minuti, cioè un disastro, questa è la mia faccia di stamattina, stranamente è anche abbastanza decente, però non ho dormito, non avete fatto abbastanza gli incrucini, e chi mi segue sempre saprà di cosa sto parlando, e ragazze c'è un minimo, no vabbè sto scherzando, abbiamo portato la Susanna a pattinare, qui c'è Giulio, qui ci sono i gemellini e il papà è andato a prendere il caffè, perché urge caffè, sì, assolutamente. Non ve l'ho detto, ma ieri pomeriggio la Susanna è voluta andare dalla parrucchiera per un cambio look, proprio drastico, e quindi dopo, dopo vi farò vedere la Susanna, sedetevi e prendete una disana calmante, perché veramente è da shock, cioè proprio ha fatto un drastico cambiamento, quindi preparatevi psicologicamente. Siamo tornati a casa, abbiamo pranzato e io ho preparato l'impasto per la pizza, qui abbiamo altre tre teglie, così dopo quando torniamo a casa abbiamo già la pizza lievitata, io uso sempre la farina integrale, si capisce, è ottimo. Sono stata anche da Kik e ho comprato un po' di cosine, poi vi farò vedere con calma in un prossimo video, un video haul, e poi sono stata anche da OBS e ho comprato altre cosine, anche beauty, perché oggi avevo voglia un po' di coccolarmi e mi sono comprata alcune cosine. le bellini, la Susanna è vestita ancora da pattinaggio, ti piacciono i jeans che ho preso a Sofì? Sì, molto, le stavo provando così. Sono carini eh? Sì, ma secondo me... Susi, facciamo vedere la tua nuova pettinatura? Sì. Eh, ti va? Sì. Ora, questo è l'outfit di pattinaggio di Susanna, quindi le scarpe, le calze americane, la gonnellina da pattinaggio, la felpa che ti ha regalato, la zia Paola che ti piace tanto, vero? Sì. Eh? Eh? Si intravede qualcosa? Eh? Eh? Tadà! Sì, oggi siamo un po' distrutte perché abbiamo pettinato, abbiamo fatti giochi eh? Sì. Girati, fai vedere meglio? Mmh! Super corti! Super, super corti! Mettiti di profilo, dall'altra parte anche? Wow, guardate, che bella amore, ti piace? Sì, mi piacciono le ciocche rosa, le mesh, scusa. Le mesh rosa, le ciocche rosa, ti piacciono? Sì. Uh! E qui chi c'è? Ah, che Giulio mi vuole far vedere il suo nuovo taglio di capelle. Allora, parlo piano perché i gemellini si sono addormentati, cambio di programma, non sono uscita io con i bambini piccoli, ma è uscito solo mio marito con i bimbi grandi, mi ha portati al cinema. Io dovevo andare a fare un giretto dentro al centro commerciale, ma non avevo voglia. Avevo visto prima che erano piuttosto distrutti, quindi ho detto li faccio addormentare a casa, così poi posso fare due o tre cosine. Così è stato, perché appunto stanno dormendo. Quindi adesso metto a fare un po' di cose e la cena è pronta, devo solo condire la pizza. E quasi quasi mi metto a registrare anche un video, anzi due video, adesso vedo. Però prima vado a fare un po' di pulizie e due lavatrici. Quindi adesso vi saluto e buon proseguimento. Ciao! Allora, facciamo così, facciamo che siccome ho tempo vi faccio vedere cosa ho comprato stamattina, così poi vado a buttare tutto in lavatrice. Ok, allora, da Kik ho comprato questi jeans per la Sofie, semplicissimi, sono in denim abbastanza morbido e li ho pagati 5,99€. Poi ho preso questo completino, aspettate, dove è la maglia? Questa maglia con questi pantaloni per Mattia, ok? La maglia l'ho pagata 4,19€ e i pantaloni li ho pagati 3,19€. Quindi un completino per Mattia. Per Mattia ho preso quest'altro completino, con la felpa e con il pantaloncino, a 3,49€. E poi ho preso questi due body, che sono insieme, come potete vedere, li ho pagati 5,49€. Allora, questo sarebbe per Mattia e questo sarebbe per la Sofie, non è proprio femminile, ma chi se ne frega, tanto questi body io li uso come pigiama sotto al sacco nanna, perché io di solito sotto al sacco nanna come pantaloni non metto mai nulla, pannolino, body e sacco nanna, basta, quindi questi qui vanno più che bene. Mentre per me ho comprato queste calze, carine, semplici e morbide e basta. Poi vi faccio vedere cosa ho preso da OVS. Eccomi, scusate, nel frattempo ho venduto una spazzola su Vinted, quindi proseguiamo. Da OVS ho preso queste cosine qui, ho preso questa maschera per la sera, sleeping mask, idratante e rilassante, ha la lavanda, l'ho aperta e ha un profumo di lavanda non chimico, buonissimo, veramente buono buono e non vedo l'ora di provarla. Poi ho preso questo correttore, l'unico correttore che c'era, ma ho sbagliato perché è troppo chiaro, mannaggia e vabbè lo userò come punto luce e poi ho preso questo rossettino collagene, rimpolpante e molto buono. Ho preso questi calzini a 6,95€ per la Susi, ok 28,30€ per la Susanna, molto carini. Poi ho preso questi due body per Mattia, uno bianco e uno grigio a coste, mentre per la Sofi ho preso questi altri due body, uno bianco però con, non so se riuscite a vedere, con questo ricamo, cioè ricamo no, con questa traforatura sul cotone, molto bello e questa qui, questo body rosa, con questi fiorellini traforati. Finalmente è giunta sera, c'è Mattia che sta piangendo, Sofia sta prendendo il latte, Susi sta lavando i denti e Giulio sta andando a nanna. La giornata è stata dura e intensa, guardiamo adesso il corpo umano e poi tutti a nanna, va bene Susi? Bene, buonanotte.